Era una bozza di una circolare interna al Ministero che sa divulgata ai sindacati, quindi il decreto legislativo è ancora da scrivere, deve venire alle camere, quindi è chiaro però che nella legge Madia vigente c'è scritto che le prefetture al massimo potranno avere bacini minimi di 600.000 abitanti, quindi è chiaro che in Abruzzo si dovranno fare due accorpamenti minimi. Essendo noi legati all'Aquila è chiaro che sarà difficile poter conservare la prefettura. Io credo che la classe politica teramana deve fare un giusto sindacato per far capire le ragioni territoriali, soprattutto al fine di conservare i presidi sostanziali per la tutela della sicurezza e delle istituzioni in provincia di Teramo e su questo territorio. Io credo che più che il prefetto e nel ruolo ci interessi avere forze di polizia sufficienti, forze di protezione civile sufficienti, questa è la cosa più importante. Dopodiché c'è l'altra partita, sempre nel decreto Madia, delle camere di commercio. Io credo che Teramo si possa giocare con forza quella partita lì, sul discorso di una camera di commercio importante, su un bacino come quello teramano e aquilano molto grande. Credo al di fuori di ogni demagogia che questo sia il percorso. Dopodiché in questo momento è chiaro che sono col sindaco nel rivendicare un'attenzione particolare per la provincia.